Nata in una famiglia di antica aristocrazia provinciale, i Giorgi Alberti, nobili di Bevagna e Camerino, attrizi di Spoleto, Elsa fu scoperta a seguito di un concorso fotografico al quale partecipò quale soggetto, non ancora diciottenne, da Mario Camerini, che le offerse il ruolo della protagonista in Tamerò sempre. 1933, negli anni 30 recitò i numerosi film in costume, ma il suo antifascismo, notevole la descrizione nel suo libro I coetanei dell'alterco con Pavolini, non le fece amare il cinema di regime. Vi preferì infatti il teatro. Sposata col conte Sandrino Contini Bonacossi. Nella seconda metà degli anni 50 ebbe una relazione con lo scrittore Italo Calvino. Descritta nel libro Ho visto partire il tuo treno. 1992, diede alle stampe, nel 1955, I coetanei, diario pubblico con molti riferimenti alla lotta partigiana, con un omaggio al coraggio del marito Sandrino, e al cinema romano del periodo intorno alla guerra. Nel 1975 interpretò la signora Maggi, una delle narratrici di Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini.